Siamo ascoltati, ancora senza la zona, molto palazzo, molto palazzo. Facciamo una ragione al ferro, poi anche possiamo entrare dalle tacchette la provincia, un altro campionatore, un altro sport. All'atleta, stiamo ascoltando, e ancora mezza maratona, un palazzo, un palazzo. Basta il ragionier Berti, e poi anche cerchiamo di decifrare dalle magliette la proveniente, altra traccia non bene, un altro camminatore, uno speedwalker. Grazie. Ciao. Allora, buona giornata di ruota che c'è il senso, il senso, il senso, il senso, il senso. Allora, buona giornata di ruota che c'è il senso, il senso, il senso, il senso, il senso. Allora, buona giornata di ruota che c'è il senso, il senso, il senso. Allora, buona giornata.